Le profezie sono delle rivelazioni anticipate su ciò che accadrà in un dato momento. Possono riguardare persone, luoghi e avvenimenti. Gli scopi delle profezie sono diversi. Il primo è senz'altro quello di attestare, più di ogni altra cosa, il carattere e l'origine soprannaturale della Bibbia e del suo autore. Un altro è quello di attestare il dominio che l'autore della Bibbia ha sugli eventi futuri, in molti casi Dio dice. Io farò questo e quello, quindi non è un semplice rivelare fatti futuri ma è un assicurare azioni future. Un altro ancora è quello di avvisare oggi circa quello che avverrà domani allo scopo di prevenire delle gravi conseguenze. Un altro ancora è quello di informare oggi circa quello che di bello avverrà domani allo scopo di consolare coloro che, avendo creduto in Dio, vivono nelle difficoltà, nella sofferenza, nella persecuzione, nel combattimento spirituale. Le profezie dunque sono un aspetto determinante della Bibbia per attestare l'attendibilità e l'affidabilità della stessa in quanto parola di Dio. Se eliminassimo le profezie dalla Bibbia, o se queste fossero inattendibili, la nostra fiducia nella Bibbia avrebbe lo stesso destino incerto di una barca alla deriva. Nella Bibbia vi sono migliaia di profezie, alcune delle quali avverate, alla lettera, già nell'antichità, altre avveratesi in tempi più recenti, altre in attesa di avverarsi. Più di 300 profezie relative alla nascita di Cristo si sono adempiutesi nel più piccolo particolare. Altre centinaia si sono avverate relativamente al popolo di Israele. Tante altre si stanno avverando, sorprendentemente precise, sotto i nostri occhi. Vediamo alcune profezie particolarmente indicative dell'attendibilità profetica della Bibbia. La profezia della distruzione di Tiro, Ezechiele 26, 12, e getteranno in mezzo alle acque le tue pietre, il tuo legname, la tua polvere. Questa profezia è relativa alla distruzione della città di Tiro da parte di Nebuchadnezzar di Babilonia. Tutto si è compiuto alla lettera, a parte un particolare che rimase incompiuto. Quando Nebuchadnezzar attacco e distrusse Tiro non la batte nella getto in mare, perché gli abitanti di Tiro si rifugiarono su un'isoletta a poca distanza dal mare e la costruirono la nuova città. Nebuchadnezzar che non disponeva di una flotta da guerra non attacco. Per molti anni sembro che questa profezia che vedeva Tiro rasa al suolo avesse fallato. La situazione cambiò quando comparve sulla scena mondiale Alessandro Magno, che pur non avendo neanche messo una flotta da guerra, deciso ad impadronirsi di Tiro, ordinò ai suoi soldati di raccogliere le rovine della vecchia Tiro distrutta da Nebuchadnezzar, e di gettarle in mare per creare un passaggio dalla terra ferma a Tiro nuova. I soldati di Alessandro grattarono la terra fino a scoprire la roccia nuda e costruirono così una strada verso l'isola, che attaccarono e distrussero. Questa profezia estrabiliante Tiro non poteva essere più rasa al suolo di così e la vecchia città di Tiro è stata completamente immersa nel mare. La profezia di Ciro re di Persia, Isaia 44, 28 Io dico di Ciro. Egli è il mio pastore. Egli adempirà tutta la mia volontà, dicendo a Gerusalemme. Sarai ricostruita. È al Tempio. Sarai fondato. Ciro conquistò il regno di Babilonia nel 539 avanti Cristo ed il primo anno del suo regno permise ai giudei deportati di rientrare in Israele per ricostruire il Tempio. Fin qui sembra tutto normale se non fosse per il fatto che il profeta Isaia, vissuto tra il 700, 750 avanti Cristo, predisse questo evento prima ancora che Israele fosse deportato in Babilonia, e circa 150 anni prima della comparsa di Ciro. La cosa straordinaria è che Isaia fa anche il nome di questo re, Ciro. Non è incredibile. Alessandro Magno, Daniele 8 e 21, 22 Il becco peloso è il re di Grecia. E il gran corno fra i suoi due occhi è il primo re. Quanto al corno spezzato, al cui posto ne sono sorti quattro, questi sono quattro remi che sorgeranno da questa nazione, ma non con la stessa sua potenza. Daniele, nel suo libro vi sono decine di profezie interessanti, visse nel 600 avanti Cristo ed era un giovane giudeo di stirpe che era stato deportato da Nebuchadnezzar. Il re ebbe delle visioni notturne ma non conosceva il significato di tali visioni, Daniele per potenza di Dio era in grado di dargliene il significato. I versetti sopra sono uno stralcio di quello che Daniele ha rivelato a Nebuchadnezzar. Parla di remi che sarebbero succeduti al suo e tra questi il regno di Grecia. La descrizione che Daniele fa è stupefacente. Il regno di Grecia alla morte di Alessandro venne realmente diviso fra i suoi quattro generali per poi spegnersi a pochi anni di distanza. Infine le incredibili profezie riguardo a Gesù. Numero 1 La nascita di Gesù a Betlemme Michea 5, 1 Ma da te, o Betlemme frata, piccola per esser tre migliai di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni, ecco come si è adempiuta Luca 2, 2, 5 Questo censimento fu il primo fatto mentre Quirino governava la Siria. E tutti andavano a farsi registrare, ciascuno alla sua città. Ora anche Giuseppe salì di Galilea, dalla città di Nazareth, in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, perché era della casa e famiglia di Davide, a farsi registrare con Maria sua sposa, che era incinta. Fu solo a motivo del censimento che Giuseppe si recò a Betlemme e così si poteva adempiere la profezia circa la nascita del Messia a Betlemme. Dico che Giuseppe molto probabilmente non sarebbe andato mai a Betlemme perché la gravidanza di Maria era, come è chiaro, in stato avanzatissimo. Dio ha permesso il compimento di questa profezia e nessuno può contestarla con nessuna argomentazione. Isaia 53, 1, 12 Occorre leggere tutto breve capitolo e poi confrontarlo con la storia di Gesù e riflettere sul fatto che è stato scritto 700 anni prima di Cristo per comprendere la straordinarietà di questa profezia. In questo capitolo profetico vi sono decine di profezie adempiutesi con assoluta precisione relative alla vita terrena di Gesù e dalla sua missione di salvezza dell'umanità. Numero 2 Il prezzo di Gesù, profezia, Zaccaria 11, 12, 13, 400 a C. E io dissi loro, se vi par bene, datemi il mio salario. Se no, lasciate stare. Ed essi mi pesarono il mio salario. 30 cicli d'argento. E l'Eterno mi disse, gettalo per il vasaio, questo magnifico prezzo al quale mi hanno stimato. E io presi 30 cicli d'argento. E li gettai nella casa dell'Eterno per il vasaio. Adempimento, Matteo 26, 15, 27, 3. Che mi volete dare, e io ve lo consegnerò? Ed essi gli contarono 30 cicli d'argento. Allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì, e riportò i 30 cicli d'argento ai capi sacerdoti e dagli anziani. Matteo 27, 7. E tenuto consiglio, comprarono con quel danaro il campo del vasaio da servir di sepoltura ai forestieri. Numero 3. La distruzione del Tempio di Gerusalemme, Luca 21, 5. E facendo alcuni notare come il Tempio fosse adorno di belle pietre e di doni consacrati, egli disse. Luca 21, 6. Quante a queste cose che voi contemplate, verranno i giorni che non sarà lasciata pietra sopra pietra che non sia diroccata. Questa profezia pronunciata da Gesù stesso circa le sorti del Tempio di Gerusalemme si compì precisamente 70 anni dopo ad opera dei Romani. Tito volendo reprimere le continue rivolte degli ebrei rase al suolo Gerusalemme e incendiò il Tempio distruggendolo. Tito diede ai suoi soldati, come bottino, tutto l'oro del Tempio, che a motivo dell'incendio, si era fuso infiltrandosi così tra le pietre dello stesso. I soldati quindi smontarono letteralmente il Tempio pietra su pietra per tirare fuori tutto l'oro. La precisione della Bibbia lascia senza parole. Questi sono solo alcuni pochissimi esempi di profezie che si sono avverate. Potremmo parlare ancora del profeta Zaccaria 14 e 12 che 2500 anni fa descriveva gli effetti di una esplosione nucleare. Oppure dell'Apocalisse 13 e 16, 17 dove troviamo riferimenti inequivocabili all'uso obbligatorio di microchip sottopelle per effettuare vendite o compere e controllare tutti i movimenti contabili degli uomini, tecnologie e strategie già in sperimentazione in molti paesi occidentali. O ancora potremmo parlare delle catastrofi ambientali largamente profetizzate sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 8, 7, 12, scritto 2000 anni fa, quando la frase catastrofe ambientale non aveva alcun senso. Anche sotto l'aspetto profetico la Bibbia dimostra di essere più che attendibile. Il professor Stoner, un insigne matematico, ha valutato in 10, 17 la probabilità che solo 8 profezie si avverassero. Sarebbe la stessa probabilità che un uomo ben dato ha di scegliere al primo colpo una moneta segnata, disposta su un tappeto di monete grande quanto il Texas.